Musica Lo chiudiamo? Lo chiudiamo? Lo chiudiamo? Raga l'abbiamo chiuso! Raga l'abbiamo chiuso! Siamo schiattati noi invece raga, ma porca di una paletta ambriaca, siamo schiattati noi, siamo schiattati noi Musica Benvenuti a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Slitterio Allora l'ho presa raga come una missione, un obiettivo, dobbiamo riuscire a entrare quantomeno in classifica Quindi non perdiamo tempo, andiamo a fare il nostro bellissimo nick, Maullo941, scritto giusto e partiamo subito raga Dobbiamo entrare in classifica, dobbiamo riuscirci raga, dobbiamo riuscirci Fu così che il nostro eroe non arrivò nemmeno a fare 2000 punti Il nostro obiettivo è 2003 se non ricordo male, il nostro obiettivo è 2003 Però va bene, vediamo cosa riusciamo a fare Ok ci siamo, siamo il vermetto di colore viola Ok ce la facciamo, non ho mangiato ancora nemmeno una pallina Le mangi le palline zio? Guarda che belle smarties, che belle smarties Oh là c'è un tipo un po' schizzato, qua c'è un argentino, lo ammazziamo l'argentino raga L'argentino, dove sta l'argentino? È sparito l'argentino? No 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 Allora zio, calma e sangue freddo, questo giallo già mi sta sulle scatole Questo giallo già mi sta sulle scatole e non va bene Seguiamo quello che è grosso, seguiamo quello che è grosso che è morto Dai 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 Bella così, gira 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 Va bene va bene, uh è morto pure quello Mannaggia ci ha fregato i punti questo Seguiamo questo qua No non morire, non morire, stiamo lì vicino Stiamo lì vicino che secondo me questo schiatta Siamo schiattati noi invece raga Ma porca di una paletta ambriaca Siamo schiattati noi, siamo schiattati noi Ok, siamo tornati Questa volta siamo il verme rosso raga Quello era tanto per prova raga Tanto per prova, tanto per un attimino di riscaldamento Vediamo di fare bene adesso Uh l'abbiamo è morto uno, dai 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 Magnate tutti sti punti zio, magnate tutti sti punti Buono così, buono così Buono così, ma porca di quella Stiamo a far schifo raga Ma stiamo a far schifo proprio in senso Proprio pesante, proprio sai quando uno dice Ma fai schifo, si stiamo a far schifo proprio pesantemente No, 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 non mi avrai mai brutto viola Lo stavamo a ammazzare raga, lo stavamo ammazzando Uh è schiattato, è schiattato, è schiattato No, no, no Ma mitico, mitico zio Dagli così, dagli così Abbiamo fatto tanti bei punti raga Abbiamo fatto tanti bei punticini Abbiamo fatto tanti bei punticini che ci mangiamo tutti E sono tutti i nostri, non ti lascio niente zio No, ci ha fregato un punto questa Moteciappo, moteciappo male, moteciappo male Hai voluto giocare col fuoco Dai, dai, guardate Stiamo facendo la corsa I cento metri piani Cento metri piani Ton, 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 ton E siamo morti Perché Perché Mi confondo Stiamo facendo Devo ucciderli Non devo giocare con loro Dai, dai, che questo lo ammazziamo Dai Oh, il nostro gemello Ha sterzato nel momento in cui lo stavamo per fregare Mannaggia lui Siamo a 120 Lunghezza Lunghezza a 120 Per entrare in classifica dobbiamo fare 7000 punti Non ci riusciremo mai Però ci possiamo provare Ci possiamo provare Guardate qua quanti bei punti ci sono Mangiamo, mangiamo, mangiamo Uh, l'hanno schiattato uno Dai, dai, dai Mangiate No, no, no Mamma, che grosso questo, raga Si è mangiato tutti i punti Mastardo Devi morire tanto prima o poi Prima o poi devi morire Io ti seguo Ti seguo così Questo se schiatta, raga Penso che mi esplode il computer Se schiatta questo Perché? Perché sono morto io e non lui? Ma perché? Perché? Dai, dai, dai Che lo ammazziamo Bella così, bella così, bei punticini per noi Che scusate ma ci portiamo a casa noi Cortesemente, questi sono punticini nostri Le so passato in mezzo Raga non riusciamo a fare più di 120 punti praticamente Riesco a ammazzarla a questa Dai che l'argentino è ancora vivo, bello Mamma come l'abbiamo ammazzato bene Dai per Roma porca Ce la facciamo raga, ce la facciamo Uccidiamo questo? No Siamo in vermetto rosso raga, innesima partita Non so quante partite sto facendo oggi Bello che l'intro del video è stata Dobbiamo entrare in classifica Oh allora qua per entrare in classifica ci vogliono 2900 punti Raga, allora Questa ce la dobbiamo fare raga Questa ce la dobbiamo fare Allora, calma e sangue freddo, guarda qua quanti bei punti ci sono Qualcuno sta venendo a mangiare No, quindi ce li possiamo mangiare con calma Dai, dai, dai che abbiamo Ce l'abbiamo a nostro favore raga Guarda quanti bei punti che stiamo a fare qua Bello così, ok, ok, ok Calma e sangue freddo 3000 punti per entrare in classifica Ce la possiamo fare Non facciamo cretinate Guarda qui altri punti l'abbandonati Belli, ce li mangiamo noi Se non sbaglio ce n'è anche qualcuno qua sotto Che ci andiamo a mangiare con calma E qualcuno qui Ok, perfetto Bella così, bella così Punti abbandonati che ci siamo mangiati noi Belli tranquilli Facciamoci i fatti nostri, signori miei Facciamoci i fatti nostri Siamo a 621 Per entrare in classifica ci vogliono solamente 2000 punti Raga, dobbiamo entrare in classifica Io voglio entrare in classifica Raga, siamo a 708 punti 708 punti ce ne vogliono 2000 per entrare in classifica Sta andando bene Sta andando bene 800 punti Per entrare in classifica ce ne vogliono sempre 2000 Ce la possiamo fare raga Ce la possiamo fare Raga, qui ne è morto qualcuno Buono, buono, buono Mangia, 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 mangia zio Mangia zio che qui ne è morto qualcuno Stiamo a fa Bello, la scorta di punti Siamo a 980 Siamo a 1000 punti raga Ce ne vogliono 1009 per entrare in classifica E noi siamo a 1000 punti Qua c'è troppa confusione Sta laggando Mi sta laggando il gioco No, 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 no Andiamoci, andiamoci Raga, qua c'è troppa confusione Via, via, via Veloce, 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 veloce Qua ci sono dei punti interessanti Ciappali Bello 1093 1093 raga Bella così Bella così No, no, no Troppi vermetti piccoli Troppi vermetti piccoli Che non va bene Via, 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 via Stiamo lontani Stiamo lontani Facciamoci i fatti nostri raga Partita tranquilla Partita tranquilla Bello, lì ne è morto uno Riuscisse a prendere dei punti Lì sarebbe tanta roba Belli così Me li sono ciappati tutti No, 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 no Quel piccolino Mi ha rischiato di ammazzarmi No, 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 no Questo piccolo sta rompendo le scatole Signori miei Questo piccolo vuole stare rompendo le scatole E noi dobbiamo Siamo a 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Via, via, via Allontaniamoci 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 Non ho intenzione di sprecare Nemmeno un Niente in questa partita Raga Non voglio fare nessun azzardo Voglio semplicemente Giocarmi la mia partita con calma Stiamo diventando belli grossi Siamo a 1.280 punti Quasi 1.300 E non voglio assolutamente sprecare nulla 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 Dobbiamo tranquillamente Prenderci i nostri punticini Siamo a 1.300 Questo sta a correre troppo No, 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 no Questo sta a correre troppo Questo sta a... Lo chiudiamo? Lo chiudiamo? Lo chiudiamo? Raga, l'abbiamo chiuso Raga, l'abbiamo chiuso No, 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 no così. Raga, ne abbiamo ammazzato uno chiudendolo. Tanta roba, tanta roba, signori miei. Siamo a 1600 punti. Ok. Calma, 1600 punti. 1600 punti per entrare in classifica dobbiamo arrivare a 1200. Calma, calma, calma. Già potremmo utilizzare la tecnica del li chiudo dentro. Stiamo calmi. Stiamo calmi, raga. Stiamo calmi, raga. Lino è morto 1. Mannaggia, quello sarebbe tanta roba. Dai, 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 riesco a chiuderlo questo. Mamma mia, ne abbiamo chiuso un altro, raga. Ne abbiamo chiuso un altro, ne abbiamo chiuso un altro. Ammazza, ti ammazzati da solo, dai, ammazzati da solo. Ammazzati da solo, ammazzati da solo. Guarda che questo ci vuole chiudere, guarda che questo ci vuole chiudere. Eh, volevi zio, volevi zio. Eh, ti sarebbe piaciuto, ti sarebbe piaciuto. Ma abbiamo perso una vittima, signori miei. Abbiamo perso una vittima, però va bene, va bene. Abbiamo perso una vittima, però va bene. Guarda Che pirla quella signori miei Concedetemelo di dirlo ma è un pirla Mi sta laggando Mi sta laggando raga 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 I punti della vita I punti della vita raga Non mi laggare mannaggia a te I punti della vita 2 e 4 2 e 4 2 e 4 2 e 4 Siamo in classifica No siamo a 2500 punti raga Il nostro record l'abbiamo battuto 2500 punti e per entrare in classifica No 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 Autore dei sorrisi